Allora ciao a tutti, oggi vi parlo di un'idea che Microsoft sta sviluppando attualmente nelle versioni dev, quindi quelle sperimentali e poi vedremo che tipo di evoluzioni o di evoluzione avrà l'idea che Microsoft sta attualmente testando è fuori da qualsiasi discussione che il pulsante start, come tutti i pulsanti start peraltro, è al centro di novità, è al centro di modifiche e naturalmente può piacere o non piacere a tantissime persone. Il pulsante start che voi attualmente vedete al centro della pagina che tra l'altro aggiungendo icone si sposta verso sinistra, peraltro vi avevo anche fatto un tutorial, se vi interessa lo trovate sul mio canale in cui vi spiego come spostare direttamente dalle impostazioni lo start tutto a sinistra ma la cosa invece più interessante, come vi dicevo, è che a me sinceramente piace sempre l'idea delle novità poi nel momento in cui la novità da cosa inedita diventa una strunzata o comunque mi diventa qualcosa che mi limita o mi offre meno cose rispetto a quelle che avevo prima, poi naturalmente la cosa inizia ad infastidirmi io do a Microsoft tutto la possibilità di modificare, di creare, di ideare anche novità ma resta il fatto che per quanto riguarda me la barra di start, come ho già detto in tanti altri video la barra di start di Windows 10 è il massimo, per quale motivo? perché mi offre le novità di Windows 8, cioè lo start che invece di aprirsi quel cesso di schermata ad hoc piena di icone inutili, mi offre però la possibilità di avere uno start enorme in base a come io lo costruisco, in base alle categorie che io scelgo di mettere cioè di intitolare delle categorie, di avere le mie icone più piccole, più grandi, medie, annulari, mignoline come ne ho voglia io e di gestirmi tutto quanto dandomi pieno controllo su quello soprattutto nel momento in cui ho tante icone come vedete, questo è così come si presenta la barra di start, quella che trovate in mezzo, quella di default cioè una via di mezzo tra il recommended e il pinned cosa vuol dire, ogni volta che voi installate un programma diventa pinned quindi ve lo ritrovate in questa sezione come vedete qua, adesso vi faccio vedere, ovviamente chi ce l'ha Windows 10 lo sa Windows 11 scusate lo sa vi fa vedere che potete scrollare questa pagina aggiungendo una, due, tre, dieci pagine è ovvio che lui vi dice, vi posso dare, diciamo, molto più spazio sulla barra di start per darvi più spazio per le vostre icone che è un'idea oppure dirvi, no, a me interessano più raccomandazioni perché a me la barra delle app predefinite mi interessa molto meno non lo so sinceramente cosa preferirei io quello che secondo me è il massimo non è nessuna di queste opzioni innanzitutto perché loro stanno facendo alcune considerazioni tenendo conto della stessa dimensione che è una dimensione che a me non interessa io voglio poter usare lo start molto più largo per esempio quindi non me ne frega nulla di questa dimensione me lo fai molto più largo e allora a questo punto possiamo aggiungere che ne so, tre colonne, quattro colonne in base a come uno sceglie di allargarlo e automaticamente il numero di icone aumenta ma più di tutto, come ho già detto in tantissimi video io rivoglio l'organizzazione di Windows 10 cioè, se voi avete facciamo un esempio voi avete il pacchetto Office come immagino moltissime persone peraltro anche qua ci sono il pacchetto Office prevede tutta una serie di applicazioni quindi, perché ne so, questo può essere il launcher secondo me no, però vabbè, chi se ne frega Word, Excel, PowerPoint, mettete e Outlook che qua non c'è se io voglio lì tutte le opzioni Outlook o scusate Office io voglio poter catalogare tutte le mie applicazioni Office all'interno di una cartella all'interno di una selezione già a me la cartella non è che mi faccia impazzire perché mi prevede che io faccia un click in più però io voglio poterlo organizzare io su Windows 10, cazzo, avevo scritto mettete dove c'è scritto Pind avevo scritto Office e qua sotto ci mettevo le mie icone poi ci metto Launcher e ci metto Steam Origin GOG GOG Galaxy tutti i miei launcher di videogame io li voglio tutti lì voglio applicazioni di Adobe e li ci metto sotto Photoshop InDesign Illustrator così deve essere fatta un'organizzazione volete il calendario il solitario la cagata e questo e quello ve la mettete lì ma non è possibile metterle tutte insieme cazzo è orribile non è organizzato è fastidioso soprattutto perché è vero se chiedete a me se chiedete a me cosa preferisco io io vi dico more pins nel senso che è vero io la parte del recommended non lo uso va semplicemente perché non sono neanche non sono più abituato cioè ce l'abbiamo sempre avuto più o meno queste cose ma non sono più abituato io a usarle e vi dico avere una riga di questo che sono gli ultimi file aperti è come non mettermela allora vi dico allora fai allora o mi dai due righe di quella roba qua così almeno sono gli ultimi quattro file aperti ma per darmene due è come non mettermelo perché cosa me ne frega a me di vedere le ultime due robettine aperte cosa che peraltro non frega proprio nulla a nessuno quindi la logica è se proprio vuoi farla è ne metti due due righe quindi sono quattro ultimi file aperti quindi ripeto questa roba qua non si può vedere questa è la classica va bene è troppo grande troppo grande perché riorganizzate lo spazio cioè mi fai queste quattro righe qua avere queste qui sinceramente vi dico io lo uso effettivamente no ma non è escluso che invece avere aperto cioè se va considerata la logica di apertura di un file di office a me possa servire o possa interessare però io sono per le cose un po' più esagerate cioè mi togli tutto e mi fai solo icone e allora mi va bene mi metti almeno due righe voi raccomandi non hanno senso voglio l'organizzazione delle cartelle questo è il modo di organizzare questa bar me la puoi far aumentare chi se ne frega tanto non è che a me interessa vedere lo start grosso in un certo modo posso vederlo anche grande quanto tutto quanto il sistema operativo non me ne frega nulla cioè chi se ne frega posso al massimo poter essere io a scegliere di ingrandirlo questa è una possibilità ma tutte queste opzioni tutte queste cose sono organizzazioni becere inutili stupide non sono organizzazioni se voi prendete se voi prendete nel bene o nel male e lo ripeto cento volte perché tutte le volte uno può avere l'opinione che io voglia sostenere Apple ma se voi prendete il sistema operativo Apple lui vi dice io vi ho organizzato le cose in questo modo e sono effettivamente organizzate bene vi da tanto vi da poco è un sistema chiuso è un sistema aperto chi se ne frega le cose sono organizzate bene il pannello di controllo di Windows è una cozzaglia di un miliardo di opzioni e a volte uno non ci salta fuori cioè se noi non siete smanettoni se non siete nell'IT nel senso che comunque ci siete tutti i giorni con le mani in pasta in quel sistema si fa fatica a capire come organizzare cosa trovare e come fare ma quanto tempo ci passate nelle impostazioni di un di un Mac ma ragazzi ma ci passate cinque minuti e sapete già cosa fare c'è anche il tizio che non l'ha mai preso in mano sa già cosa vuole la rete l'audio non so qualcosa dello sfondo quello dove fa e ci arriva in un attimo tenendo conto che tra l'altro la Apple ha cose in più se vogliamo cioè ha meno icone tutto quello che vi serve e anche cose in più tipo la privacy non c'è o comunque si c'è ma cioè ci sono addirittura funzionalità quasi in più da gestire in un certo modo sulla parte Apple e però ce la fanno in meno icone ce la fanno facendovi arrivare a destinazione in pochi click cioè è questo che io voglio a me va bene che lo start sia un marchio di fabbrica di Windows mi va bene che ogni tot tu me lo devi rivoluzionare che poi anche lì parliamone però se me lo rivoluzioni mi devi offrire delle opzioni intelligenti ho parlato troppo mi dispiace attenzione perché anche oggi è capitato questa cosa ve la ripeto se volete scrivermi commentare farmi domande dite tutto quello che volete ma vi dovete registrare sul mio canale altrimenti ragazzi purtroppo il sistema fa filtro anti spam e vi cancella i commenti purtroppo è una scelta perché se no tutti i giorni io ho decine di persone che scrivono facendo spam c'è anche gente che si iscrive al mio canale e poi fa spam però almeno è un po' più logico e filtrato se non fate almeno questo purtroppo il sistema vi deve fare anche lui da filtro brutto e cancellarvi i commenti quindi ragazzi registratevi e poi io vi rispondo se c'è una risposta se il vostro commento è così ci mancherebbe voi fatelo io ve lo lascio e basta ma se volete un'interazione se avete delle domande volentieri cerco se posso se so la risposta ovviamente di aiutarvi io come sempre vi ringrazio vi auguro una splendida giornata al prossimo video e ciao